Buonasera a tutti, oggi ci troviamo alla chiesa di Tirrenia e parlo piano perché siamo davanti alla chiesa. Qui c'è il campanile dove abbiamo un concelto di due campane che adesso ascolteremo la distesa feriale alle 18. Battito dell'ora sulla prima campana, ci sono due campane che adesso vi inquadro, meglio, eccole. Questa non l'ho mai vista suonare, praticamente ha dei problemi o non ha proprio il coso, come si dice, non ha proprio il motore. Comunque, intanto vediamo le campane, questa è quella che dovrebbe suonare e niente, qui c'è la chiesa, il rosone centrale che fa parte della navata centrale, la croce. E poi qui la piazza, là c'è la stazioncina, là il Luna Park. Qui si sale sul campanile che non credo sia agibile e quindi niente, sono le 17.56, quindi tra circa poco dovrebbe partire. E scusate se ho tussito, però c'ho un po' la tosse. Mamma! Mamma, ora volevo vedere se suona... Ah, sai perché non suona? Non ha il motore quella campana. Lorenzo, via degli ortani. Perché non è a fuoco? Ecco, ora si vede. Quale? La gente inizia... Questa è la la… Questa è la forza che ho scritto qui. Vesto va... Ah, è vero... Ecco, va... Vado, dire in là... 60 linf... Ah quella va con piccio e basto, con martello, vedi? Come col martello? Ah ma c'è di qua la corona, in modo da dove ci vorrebbe essere, c'è di qua la corona. Ma suona o no quella sinistra? Eh se vogliono può suonare, potrebbe suonare. Io in un video su youtube l'ho digitato campane di Tireno, l'ho vista suonare però qui dal vivo non l'ho mai vista. La corona c'è di qua e di là c'è di là. Da quel che so suona quella destra a mezzogiorno, quella è quella che suona genere sempre, ci sarebbero anche delle quattro campane, solo che mi è stato detto che non le hanno messe. Da quando è stato costruito sto campanile, niente. Adesso aspettiamo la suonata delle sei per il rosario e per la messa. Ma la gloria ci viene alla messa qua. Ma la gloria ci viene alla prossima. 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 Eccola, guarda, guarda, guarda. Tre' unterstütta! Qu'è? Qu'è? Sì! E' durato poco. Comunque, che dire, sono veramente contento perché questa campana non l'ho mai vista suonare. Ciao ciao!